per l'attività che benvenuti sono metti mars siamo qui a shadow of war ho deciso perché per chi non lo sapesse io avevo già registrato una quarantina di gameplay su questo gioco e piano piano editandoli l'inserivo sul canale il problema che è uscito aggiornamento delle fosse online quindi io ho aspettavo tipo due o tre mesi in modo tale che arrivavo a fino a dove sono ore che ora sono livello 37 e poi inserivo le fosse online però si aspettava veramente troppo oppure le inserisco adesso tanto non spoiler niente di quello che ho fatto perché si vedono solo le fosse e però le inserisco subito le faccio vedere subito e quindi ho scelto di farvele vedere subito tanto l'unica cosa che spoiler è praticamente il mio livello e vabbè io che ho nel reggimento ma quello vabbè insomma diciamo che questo è il primo reggimento quindi è quello che si si conquista subito di tutto il resto diciamo non si vede niente diciamo che facciamo un salto temporale per quanto riguarda i livelli ma per il resto va bene così allora forse online noi dobbiamo vincere cinque volte cose che non so se ce la faremo perché forse potenziamento campione promuovere a leggendario se vincete quindi il vostro qui vintero leggendario sarebbe ottimo ma io vedo già i primi due o tre livelli poi dopo anche perché non sono livello 60 dobbiamo essere livello 60 quindi sarà un po' impossibile e a questo giro a questo giro io l'altra volta ho combattuto con il vero reggente che stiamo signore della della zuffa che è molto molto carino perché è ignifugo immuno alla maledizione immuno alle bestie padrone devoto riuscito dalle mosche zul maestro delle maledizioni determinazione epica è terrorizzato mortalmente dai ragni però sia nell'arena e sia nel nel combattimento dentro dentro la fortezza non usano i ragni quindi tengo lui poi in realtà ci sarebbe anche qualcuno che secondo me sarebbe più adatto tipo lui per la fortezza perché in una delle frecce vulnerabile il veleno e sangue freddo terrorizzato però dalle eseguzioni ecco non è più adatto non niente scherziamo quindi oggi invece proveremo con lui che snafu il furente che è a livello 34 messo come reggente e sostitutivo è sangue freddo non ha niente di poche reticolata anche perché paura del blocco già lui non potrebbe fare mai reggente e ferita attacca a distanza chiuso dal fuoco diciamo che se crepa va bene quindi e se vince diventa epico o leggendario che poi non so se già epico di credo di sì se non ricordo male comunque iniziamo vediamo cosa succede non mando il reggente primario perché ragazzi se muore mi dispiace i livelli da quello che ho capito sono casuali sottovalutarmi voglio una bella lotta 25 lui superiore sono più che per un 24 quindi dovrebbe essere abbastanza facile vedete che comunque quasi tutti è una tratta che usano le maledizioni quindi se voi mettete un orco che non ha le maledizioni insomma diciamo che al 50 per cento ve l'ho sbligato cosa è successo che si esplose tutti meglio che le lancio non ci hanno fatto fuori ok va bene russo e la vittoria ce la siamo fatta dove sono? dove è? aiuto ok molto carina questa cosa io e tanto ragazzi che aspettavo questo discorso delle fosse online e sì diciamo che l'hanno gestita oddio vediamo un po' 31-35 io ragazzi era tanto che aspettavo questa cosa delle fosse online e la cosa carina diciamo che te non puoi sapere chi hai di fronte perché non te lo puoi studiare come nelle altre fosse che ti andava a vedere punti deboli punti forti e ti mettevi il comandante giusto per vincere facilmente se la vivi e andavi avanti adesso invece non sai che hai di fronte quindi potresti trovare un nemico da battere facilmente come potresti trovare il tuo peggior lungo tipo se lui fosse mortalmente ferito dai caragor sarebbe finita diversamente ecco forziere veterano poi andiamo a aprire anche forziere 20 punti sono veramente pochi solamente non so se il giocatore deve essere per forza online pure lui oppure lo prende a caso anche offline quello che deve essere online pure lui e poi non so se ora se io attacco e perdo mi muore però io non so se mi attaccano e il mio va va diciamo a combattere poi me lo ritrovo morto oppure no se non pensando 36 37 era al fuoco lui al fuoco non mi piace vedete quindi mi sa che ci lascia la buccia a sto giro ce la potrebbe anche fuoco ah no anche lui ah lui è leggendario poi ragazzi siamo sempre epici a eh ma non ce la fa non ce la fa è stremato comunque eh eh sì però se non lo colpisci oh che lo fai? nooo colpiscelo ma caca per un punto cioè per un punto per un colpo ma non ce la fa credo ma sei pure brutto non è nemmeno agli occhi allora dobbiamo trovare qualcuno adatto però qualcuno adatte qualcuno di buono allora proviamo lui mi lui mi piace lui mi piace in realtà secondo me un po rischio mandarlo però proviamo qualcuno bisogna mandare ok dai proviamo io dipingo mura con tuo sangue lasciate fatti sotto se vuoi un assaggio di sofferenza perché se ci fa a neri è una parola infelocita e le salutiamo ok confuso 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 dai uno infelocita e uno confuso ma sparagli però se sei infelocita e non fai niente oh bravo così bravo continua 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 donkey kong vai fuori sto donkey kong pur corre il peloso quindi ci sono anche dei nuovi dell'aggiornamento ci sono anche dei nuovi orchi perché queste non l'avevo mai visto bravo 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 perché devo sempre girare intorno per trovarlo dai facciamo in alto ragazzi ah combattimento nella fossa amichevole proviamo questo ragazzi è un mio amico è il cazzarone dei videogiochi Alessandro guardate anche andate anche nel suo canale perché ogni tanto anche lui fa i video ora purtroppo non molto spesso perché va a poco tempo però andatelo a vedere che ogni tanto fa i video sono molto carini tempi di non non beccato che sono parecchio alto di livello non c'è niente da 15 ma sarebbe stata carina attenzione no 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 eh io sono sono un pochino altino per lui per lui spero di non avergli ucciso qualcuno di importante me lo auguro ok ragazzi facciamo l'ultima nostra ma mi dispiace rile l'ammazzato adesso sinceramente non pensavo fosse di livello così pensavo fosse un 30 anche lui e io purtroppo più bassi non ne ho ecco questo va bello questo questo cilegna se c'è questa molta sensazione questo cilegna questo cilegna la grande ragazzi eh e anche come non poco va bene ora ragazzi se lo perdiamo amo non è uno importante tu fai alle spalle eh vabbè poi sta anche stordito bello bello però dai continua continua eh no continua non ti fermare continua dai fai quella mossa di prima colpo d'ascella niente si è infelocito si è infelocito vai caralo no ce la fa ce la fa ragazzi ce la fa incredibile incredibile ha ammazzato un leggendario ragazzi ha ammazzato un leggendario tutto il mio rispetto ha ammazzato un leggendario grande eh quando si infelocisce infelocisce quando si infelocisce non ce n'è per nessuno va a fare l'ultimo la terza vittoria promuove epico lì già è epico facciamo l'ultimo dai l'ultimo dai però se mi vince così m'ho affezione sono non nulla non hai motivo di preoccuparti 34 epico e noi 33 ma non cresce però vivendo scusa perché non cresci questo è il veloce questa mela è il veloce peccato che poi non glieli posso rubare una volta che perdo vai che è sempre riuscito vai che è sempre riuscito sto già senza vita io e chi è questo? eh ragazzi no non ci credo non ci credo non ci credo ce l'ha fatta ce l'ha fatta ma era senza vita e l'ha ucciso ma chi è quello? ma questo è un mostro scusate è tanto di cappello ma tanto tanto di cappello chapeau dove sei? dove sei? dove sei finito? ah già eh 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 dove è qua tiro fortunato altra che è tiro fortunato scusa eh ma sei un grande taggera no immune alle medizioni immune alle bestie ferito dal fuoco ferito dal veleno sei un grande mortalmente da nessuno guarda io ti lascio reggente al momento perché te lo sei meritato allora ragazzi andiamo a vedere un attimino no non lo so andare avanti ragazzi perché mi sono letteralmente affezionato ho paura di perderlo sono codardo al momento però ho paura di perderlo allora mercato quindi le fosse lan è anche la maniera migliore per dimostrare il valore in campo perché le altre fosse diciamo che te la giostravi nel senso che insomma ti andavi a cercare l'adattamento migliore per vincere poi ti vedevi il livello e tutto qui non ti vedi niente quindi è molto molto più interessante andiamo ad aprire i bauli partiamo da vabbè partito da questo vabbè la stessa allora oh fornisce un'arma maledetta che può essere bene una banda di guerrieri di un livello io penso che questo forniva la protezione dalla maledizione sarebbe stata una figata paurosa uno di livello uno di livello non serve per niente cinque sarà meno no sempre uno capito ma se dai solo queste cose qua un bottino un po' brutto oh basta non me ne da più questo qua mi da dei lancieri cacciatori e questo cinque di livello va bene ragazzi io per il momento penso di concludere qua quindi ragazzi io vi ringrazio per l'impagnia ci vediamo prossimamente ciao a tutti